Una protesta organizzata presso il piazzale adibito a parcheggio antistante l'entrata del servizio dell'unità operativa di rianimazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Quella organizzata a difesa della sanità regina che sta vivendo una serie di criticità che impediscono la fruizione di prestazioni sanitarie di qualità a tutta la comunità. Noi stamattina con questa manifestazione pacifica, con questa manifestazione che era una manifestazione pro, una manifestazione a favore di questo punto di riferimento importante che abbiamo in città, che sono gli ospedali riuniti, il GOM, questa azienda ospedaliera, non abbiamo potuto evitare chiaramente di dire e di parlare quello che noi diciamo in linguaggio della verità. Abbiamo messo gli accenti, abbiamo sottolineato le responsabilità che ci sono e sono diffuse. Questo è un ospedale che ha necessità, bisogno urgentissimo di forze nuove, di energie, di professionalità mediche, di professionalità infermieristiche e tecniche, di os. Questa è l'urgenza di cui si ha bisogno. Intanto diciamo che la responsabilità maggiore è del livello regionale, del commissario ad acta, il quale ancora si ostina a non revocare il decreto, il DCA 114, che bloccò con Cotticelli il piano delle assunzioni del GOM. Quindi questa è una grandissima responsabilità. Invitiamo la politica, invitiamo i futuri governatori, quelli che attualmente si stanno contendendo il ruolo di governatore calabresa, intervenire immediatamente alla regione per far sì che si senta la loro voce e si sblocchi questa situazione. La struttura soffre ormai da tanto tempo di carenze di personale medico. Gli organizzatori della protesta l'hanno definito una vera e propria battaglia per la sanità, un appuntamento che adesso non può più essere rimandato.